pronto ciao carmini ciao dimmi tutto che cosa va benissimo allora adesso chiamo io francesco e glielo dico io grazie mille pronto? vale? dico guazzaroni e piacere fratello dimmi tutto si? come dici? devo avvisare? adesso spaghetto va bene va bene ci penso di trovare grazie alla notizia un abbracciole fratello ci sentiamo grazie pronto? francesco grazie franci un abbraccio ciao oh pronto? pronto spaghetto come stai tutto bene? dìglielo subito perché è importante va bene? è importante è importante va ti saluto ciao 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 stai scherzando si? bello ottimo allora facciamo così avviso io sarò ok ciao cara ciao 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 chau no non ci posso creder mamma ma come adesso me lo dici? Ciao 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 Ma come stai? Davvero Davvero Ma che figata Senti Chiamo Valenio Io dico io a Valenio Va bene? Sì, 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 dai, lo dico io Un bacione, giamba, ciao, ciao, ciao Pronto, Valerio, carissimo Ciao, te ne va tutto bene? Ti ringrazio davvero, bellissima, bellissima notizia Ciao Valerio, ciao, ciao, a presto, a presto Ragazzi, è appena arrivata la chiamata Quindi siamo pronti perché inizia ufficialmente Il Master di Ombiente Neotropici Ci vediamo, ciao, ciao, grazie